Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Call of Duty, però tuttavia questa volta è speciale perché ci nasconderemo dai bot infatti alcuni bot ci sono alcuni posti in cui loro non riescono a guardare e non riescono a prenderci e ora vi mostreremo quali sono ricorda, andiamo diretti al punto no, intanto buttiamoci Siam per fare i froci faccio di strada io tu, 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 tu c'hai il bui fire guarda che spara tre colpi alla volta qui c'è il pelato, sei non netto, corri col no, hai già sparato e quindi già ora sono all'errta ma scusa ma sei silenziatore? ah no, si è vero corri corri sono all'errta, sono all'errta, sono cani no, no, non funziona ma perché non basso, ci sono di merda oh, qui non ci trovo, texture, texturizzato lol anche se noi spariamo ragazzi allora io qua ho la mia vita e la mia, ho la mia vita e la mia morta davanti a me no, 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 no fatto e qua invece? aia ok, ok, possiamo anche sparargli attraverso, non ci trovano e io no invece non vedo nulla ci provano, ci provano, spargli, girati e sparagli girati e sparagli io non riesco a girarmi ah, devi salti per forza io non mi alzo, guarda, alzati tu poi dopo non ci, ragazzi, se sei in cinocchio a volte ti vedono e ti possono sparare anche se ti mancano però è risicioso mettereci le cose in ginocchio aia non ci si può più mettere sdraiati ho il tuo piede addosso, spostati che stronzata oh, lo stanno passando, oh, l'ho colpito vuole cercare di salire qui sopra non penso guarda in alto io guardo in alto, vedo il sole e basta stiamo in ansia, noi ce l'ha visto aspetta il secondo, ma che cazzo no, niente ma vedo, poi della sopra che ci sono delle case in orizzontale ma che cazzo eh sì, è una mappa che è fatta così è strana ma che mappa del cazzo faccio glitch, vedi che mi ritrovo qui allo stesso punto un fallo no mi ritrovo in ginocchio appunto infatti quindi io non lo faccio ok, ora mettiamoci sdraiati facciamo un po' divertimento oh, cazzo io qua guido oh, guarda, ce n'è un altro posto qui ragazzi ho il tuo cadavere oh, 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 puttana ho il tuo cadavere qua che mi fa compagnia tieni premuto lo usi come peluche lo uso come bambola gonfiabile cavolo, ora devo trovare un posto però dove mi metti guardate vuole fare le stradine dietro ragazzi tiè intanto ci abbiamo il mi sento solo qua, aiuto mi sento quasi violato perché? mi serve, non so, magari arriva un bot da un momento all'altro che che ne sai non ti trovano ok io nel dubbio mi alzo un po' eh qua giù, 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 qua giù sì, sono salvo, sono salvo ma perché non si sdrai a sto ciccione di merda? salvo, sono salvo arrivo sono salvo vieni da me, vieni da me è singola quella è singola è una cabina a spazio singolo tu cazzo e io sono arrivato però non vivo sono partito vivo, sono arrivato morto che metafore che palle no oh guardate che loro sanno che noi siamo qui perché è la che gira all'intorno come le mosche non riesco a sparare in mezzo questa roba poi puoi entrare qua ah no non c'è arrivo quasi guarda passa pure la faccia esplode ho il fuoco in faccia comunque sto arrivando tienimi lontan, è vero tu sei nella cabina non posso tienimi i posti con i bus tienimi i posti forse qua ci riusciamo meglio perché fosse più l'aria aiuto sto arrivando beh sì sì no ancora ma sto qua non riesce a beccare non riesce a beccare la cabina piano wow fermi da due impedito e qua forse quei piedi riesce a fraccarti meglio qui sotto e quindi sei più protetto sdraiati e la sono ma dai vado in giro con la pistolina giù 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 stanno passando su qui vicino sei passato non so ne vado davanti è ucciso corri 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 ti faccio copertura ma quello vuoi coprire che non salta su puntate a terra no si è puntata a terra no si è puntata a terra ora ci stai tu in piedi stai ah ce l'hai fatta si puoi star fermo non è una bella visione io guardo in alto spostati ok così va bene prendi il culo in faccia troia no ma io dico guarda ah è vero non ho più non ho più guardate come si muove mi suicido cavolo vaffanculo io guardo in alto no è pezzo ancora in alto ci sono le case c'è il mindfuck qui c'è ok ora mi espongo un po' esponiti un po' io sto qua provo a girare no 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 si sono salvo sono salvo sono salvo becca del culo in faccia troia no ho finito le munizioni ho finito tu no no aspetta ma là che effetto della miseria che faccio provo a sparare di sua casa niente penseranno chi cazzo è stai facendo sparo per divertimento si poi dopo ci sono anche altri posti si sono sempre posti ma oh no ne ho visto uno che saltava forse ti stanno puntando lo so ti stanno puntando sdraiati no sdraiati 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 ora ragazzi siamo su bridge e vi mostreremo e vi mostreremo un altro posto dove nascondersi sono disorientato non so più dove è come la mappa ahhh si ho capito dove sono ok no anzi beh non proprio modo distante ma in realtà non è la strada ho sbagliato anch'io mi sono disorientato anch'io vieni qua presto sto andando sto arrivando sono vicinissimo vicinissimo ci mettiamo sdraiati ora cavolo su quella squadra sbagliata cazzo aspetta un secondo non ci ho fatto caso siamo per essere disfunnato vicino a te vieni presto curatone piano vado fottiti delle persone andiamo andiamo nooo non voglio morire con lei nooo che sono morto io sono vivo e io sono morto guarda io ti vedo morire dietro di me ecco vedete vedete no vai su vai su ahahahah quella di Grizzi guarda te non va faccelo stare faccelo stare non funziona non funziona mi sa che non funziona sempre da quel che vedo no aspetta il problema e vaffanculo no tutti da me vanno mai da lui lui non fa me mancato tutto il giorno andate a lui era un po' di coglioni porco il cazzo mi ha affreddato in modo brutissimo si è affreddato son dietro te son dietro te no son dava che palle è lo stesso che ha affreddato me immagino ecco vedete vedete mi beccano vedete non mi hanno visto non funziona sempre però io non ce la faccio da venire ad arrivare mi ha visto quello invece non funziona sempre eh no il treno mi hanno visto in cambio è un buon risultato comunque ci sono ci sono ci sono dai ci vuole tanto si mi sparano ci sono no ci ho ci ho cionato il posto mi nascondo da ti ho cionato il posto adesso sono mimetizzato volete a prendermi coprimi 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 posto mio cazzo no mi ha visto e se hai visto me vedi anche te dove sei scusa sede di verda eh che sede di verda mi sparano addosso noo sali sulla sede ah ci sono ci sono tante sede comunque vabbè ma non so se funzionano su tutte vedi che uno è bugato gli angolini di solito non vi vedono ragazzi stanno negli angolini lol ne ho preso uno oh l'ho colpito ma ti stai sparando ce n'è uno da davanti oh no l'hai scioltato forse non sono sicuro avevano preso sul collo forse spara i frizzini qua così non arrivano più perché io non ho frizzini non ci vedono hanno paura dicono qua ci sono i fantasmi wow è stato io appunto qua veramente non vengono più forse qua sono più nascosto perché sono anche dentro beh guarda sono completato con i vasi sei un vaso e quello cos'è? è io sono un vaso ah ok e vanno via senza cosa ma lì qui c'è un lampadario vediamo se riesco a buttarlo giù che lampadario ho fatto un buco la lampada su serio vedi? qua beh non si vede tanto ah no c'era già da prima cavolo mi hai fatto mi hai fatto cosa? interagibili ah no peccato eh volevi ma c'è aspetta qua c'è uno dei simboli dice su torna su torna su quello stai facendo forse riesco a nascondimi che sopra sei un pazzo torno dove eri prima prima che arrivino i bot no no mi ha visto proteggimi come io non vedo non ho visuale sono ah sistema troppi quello la quello la quello di merda ah quello la che ti fa esplodere le granate mi sembra ma mi sa che sono morti veramente non si spawnono più ormai si sono bagate lo spawn ah ho rotto i segnali di cosa come si chiamano vabbè non mi hanno visto no io non esisto mi ha puntato mi ha puntato quel fucile io non ci sono oi vieni un attimo qua vieni dove sono io ora ecco vieni qua no è il mio posto veniti qua vieni qua un attimo fortiti posto mio fuori dal cazzo ok io sto qua io sono un vaso ok io cazzo non mi ha visto no mi ha visto mi ha visto sono io che non riuscivo a beccarlo oppure vabbè io ho tornato nella sedia occhio ho sparato no la tua porta non c'era una porta lì no ho sbagliato porta non c'era una porta ah non eri tu oh come non eri tu aspetta il secondo ah no sei tu sei ma che cosa è qua ho detto ma che cazzo e dopo che fai i saldi a caso aspetta non è lui e mi hanno saltato da dietro dai che ci sono ci sono quasi oh mio dio ah è vero non ho la pistola puttana verrò a prendervi tu ma poi dove sei? sono qui sai dove sono? dentro l'appartamento ah ho capito appartamento no che vita di merda quella del soldato su quello of duty anche loro hanno dei sentimenti voi li fate morire continuamente forse forse prima o poi la disney ci farà un film su questi qua però guardi no dove sei? ma giusto la mia sedia la mia quanto bene ci sta sulla sedia oh adesso mi siedo sulla sedia mi distendo sulla sedia? no non posso che peccato posto occupato mi ha mi ha visto boom mi ha fatto un headshot mi ha fatto un headshot no mi scappa troia ahia abbiamo ancora 3 minuti che palle non possiamo stufare 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 ci sono sulla sedia chi ha? non so se poi ci sono altri punti bene anche io penso mi sa che è l'ultimo questo qua no adesso mi spacco il comput ci sono antiprietili dei computer come? perchè dove? che mondo è questo qua? dove i prietili sono? eh sì dove i prietili sono anti computer dove i computer sono antiprietili ma questo qua? ah no non si è buggato ti sto inseguendo sono dall'altra parte ah lo sapeva io sono un bidone vediamo se funziona qua voglio farlo stronzo non mi ha funzionato adesso oh sopra la sedia ah non mi vedi più adesso eh è andato via è andato via è finiti qui ti ho un po' cosa faccio ti è no no spera che non esisto non esistono nel vostro mondo eh non esiste nel vostro mondo non esiste quello la spera oh spera eh no sto calcolando i prietili chi cazza che rompi i coglioni nessuno piano no ho una granata in mano non farmela far esplodere eh grazie mi sono fulgidato però ci sono anche uno ah non possiamo staccare vuoi? ah sì sì un attimo vandali però ma quanto quanto sono resistenti ci schermi qui che non si rompono neanche i proiettili tanto cioè guardate che cavolo i che sono fatti termina partita termina partita disastro siamo morti più noi dei bot siamo morti più noi dei bot siamo morti più noi dei bot nooo ma aspetta fai la fine però il pilo eh lo so aspetta no adesso vediamo chi 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 è chi è questo stacca 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 non sono io è lui comunque non ci risultano altri posti dove nascondersi dai bot o almeno non li abbiamo trovati ragazzi ci si vede al prossimo video ciao a tutti